Che futuro vogliamo avere? La domanda è stato il fulcro dell'intervento di Norbert Lashner, presidente di Climabita Foundation, a Ufficina L'Aquila, dove si è discusso di smart city e sviluppo edilizio sostenibile. I nostri comportamenti, ha sottolineato, stanno dettando il nostro domani. Seguire il modello business as usual aggraverà le problematiche e le crisi e alla fine ci aspetta l'autodistruzione. Bisogna cambiare e questa non è un'affermazione retorica ma una necessità per avere un futuro con futuro. Centrali sono le risposte alle sfide energetiche e climatiche dove il settore strategico del cambiamento è l'edilizia. Le costruzioni quindi rappresentano il punto centrale dal quale partire per contribuire alla costruzione di una società di impatto zero dove le esigenze antropiche si concilino con la necessità irrinunciabile di un ambiente pulito. Questi obiettivi sono perseguibili solo attraverso un modello smart che tenga conto dell'efficienza energetica e della sobrietà come principi categorici da implementare nelle azioni di sviluppo. Emerge dunque la forte necessità di un nuovo modo di progettare, costruire e abitare che aiuti ad accelerare la transizione verso un modello dei forti contenuti ecologici.